perché appunto rappresentava il principio della vita, era importantissimo la madre, infatti noi abbiamo delle testimonianze non scritte perché non c'era la scrittura ma per esempio il piccolo statuide con un ventre enorme, con tanti seni, perché proprio il concetto della maternità. E questo lo dicono gli antropologi che il diritto materno e la